21 novembre, giornata nazionale degli alberi. Un albero per ogni neonato del 2014, contro la chiusura del punto nascita del nosocomio Peligno. È l'iniziativa promossa stamane da Sulmona e Bene in Comune, che dinanzi la sede del Tribunale del Malato regalava semi di alberi da fusto rapiantare, assieme a una lettera per scongiurare la chiusura del punto nascite. Stiamo dando semi di acero, semi di sorbo, semi di alberi, che sono difficilissimi da far nascere. E com'è difficile poter proteggere questo punto nascita, com'è difficile vivere la quotidianità senza avere dei servizi. Una giornata che unisce ambiente, vita e salute. Valorizzare l'albero significa custodire il patrimonio arborio e boschivo per rilanciare la biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici ed evitare il dissesto idrogeologico. L'albero però rimanda anche alla vita, alla forza di continuare a seminare sul territorio, per tutelare tutti i servizi e in particolare, vista l'iniziativa di SBIC, quegli ospedalieri. Investire sull'ospedale e sul territorio è ancora possibile oggi? Sì, deve essere possibile. Dobbiamo pensare che tutto quello che succede nel punto nascite, tutto quello che succede in ortopedia, eccetera, è sofferenza della comunità. E quindi come comunità noi ci dobbiamo fermare, ragionare un attimo e piantare un albero per il futuro. La vita è una cosa molto importante, è la base dell'umanità. Dobbiamo difendere i servizi e tutto l'ospedale, perché l'ospedale è molto importante per tutta la Valle Pelegna e nessuno lo sta facendo morire. Un albero per rilanciare la vita e per invogliare i sulmonesi e gli abitanti della Valle a seminare comunque. Seminiamo, seminiamo alberi, seminiamo semi per il bene comune e cerchiamo di tutelare i beni che abbiamo, rilanciando il punto nascite invece che chiuderlo. Molte città ogni anno piantano un numero di alberi corrispondenti alle nascite avvenute nei loro ospedali, si legge nella missiva consegnata da SBIC. Il giorno in cui chiuderanno il nostro punto nascite, nessuno nascerà più a Sulmona. E quanti alberi potremo piantare?